Saluto a tutti cari amici di YouTube, adesso volevo parlare di uno dei tanti misteri di epoca moderna. In Inghilterra, nei primi del 1500, due grandi esoteristi inglesi alla corte della regina Elisabetta I d'Inghilterra avevano progettato quello che tutti noi chiamiamo l'alfabeto angelico. Erano un astronomo e astrologo inglese John Dee e un alchimista inglese Edward Kelly. Questo alfabeto viene scritto come l'alfabeto ebraico, come l'alfabeto degli arabi, da destra verso sinistra e non come l'alfabeto latino, da sinistra verso destra. E sono circa, dicono, 21 lettere, ma io penso che sono 22. Vi metto qua l'alfabeto, così vi rendete conto com'è l'alfabeto angelico. Questi due scienziati, se possiamo definirli così, questi due esoteristi che credevano molto nella magia e nell'occultismo, dicevano che attraverso i cristalli sono riusciti a comprendere questa scrittura. Innanzitutto, loro hanno detto che questo tipo di scrittura qui gli era stata comunicata dagli angeli attraverso la cristallomanzia, ovvero l'arte divinatoria di prevedere il futuro con i cristalli, anche con le pietre, con un certo tipo di pietra. Gli esoteristi sono a conoscenza di parecchie cose, chi con le pietre, chi con le erbe, chi con altro. Sono vari i tipi di divinazione. Questo tipo di scrittura qua viene usato anche per la divinazione, un po' come per le rune, di cui ho già parlato in molti dei miei video, di cui ho trattato di questo argomento. Anche l'alfabeto angelico, così come l'alfabeto runico, appartiene a quegli alfabeti occultisti, criptici, che oltre a essere un semplice metodo di scrittura, e anche ogni lettera corrisponde a dei simboli e a dei significati esoterici. Questi li usavano soprattutto per la loro divinazione, ma la cosa che c'è da dire è che, Secondo questi due famosi esoteristi inglesi, questo alfabeto era un linguaggio preistorico, un linguaggio che si parlava nelle epoche prediluviane, prima dell'arrivo di Noè, anche lo stesso Noè parlava la lingua angelica, così come il famoso patriarca Enoch, bisnonno di Noè, che poi è stato accolto da Dio, anima e corpo, perché è uomo giusto, uomo di fede, uomo buono, un sant'uomo, prima ancora del cristianesimo, che è stato, proprio nella Bibbia c'è scritto che Enoch, camminava a fianco di Dio, e siccome Dio notò la sua bontà infinita, non morì come tutti quanti gli uomini, ma venne accolto anima e corpo in cielo, e molti dicono che, una volta rapito in cielo da Dio, cambiò nome chiamandosi Metatron, diventando uno degli arcangeli di luce, quasi allo stesso livello degli arcangeli, Michele, Raffaele, Gabriele, Uriele, che lo stesso Enoch era a conoscenza dell'alfabeto angelico, lui stesso scriveva un sacco di libri, di cui il famoso libro di Enoch, considerato un libro apocrifo, che parla della sua vita, e anche dell'esistenza dei giganti, che siccome noi sappiamo che i giganti sono realmente esistiti, perché un tempo di ossigeno ce n'era di più, l'ozono era più spesso, e quindi dava facilità, come ad esempio i dinosauri e altri animali preistorici, erano molto più grandi degli animali attuali, uomo compreso. La balenotta e l'azzurra rimane l'animale più grande di sempre, ma quello è marino, acquatico, però si dice che un tempo, quando esistevano i giganti, era perché l'ossigeno ne era di più, e l'ozono era più spesso, ma altri, questo è lo stesso alfabeto, questo linguaggio, ne hanno parlato gli uomini, sino a un certo evento, l'evento della torre di Babele, siccome gli uomini avevano deciso di costruire una gigantesca torre che doveva arrivare fino al cielo, per mettersi alla pari con Dio, Dio ha distrutto questa torre e ha confuso le lingue, da lì non si è parlato più l'alfabeto angelico, iniziarono a formarsi tutte le altre lingue, che un tempo non esisteva, perché dai tempi di Adamo fino al crollo della torre di Babele, si parlava in linguaggio angelico, e si scriveva con l'alfabeto angelico, quando poi, crollando la torre di Babele, Dio confuse le lingue, non tutti si capivano, e quindi era diventato impossibile ricostruirla, ma lo stesso Gesù Cristo, nel giorno della Pentecoste, mandò i suoi apostoli a parlare lingue che loro neanche conoscevano, le ha riunificate le lingue, adesso grazie a Dio si studiano le lingue straniere, e possiamo quindi poter comunicare con chi non parla la nostra lingua, a meno se uno sa parlare l'inglese o il francese o qualche altra lingua, è fortunato. Altri personaggi che hanno usato questo linguaggio erano l'occultista Alistair Crowley, e il satanista Anton Lavei, che usavano questo alfabeto per comunicare con i membri della loro setta. Bene amici, prendete tutto quello che vi sto dicendo a pari di teoria o favola moderna, io ho trovato questo argomento alquanto interessante, concludo dicendo che chi vuole può anche memorizzare queste lettere per formare un alfabeto, no, per fare un diario segreto a vostro piacimento, chi vuole. Ora io vi saluto, con questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico. un abbraccio immenso dal Gran Mitico. Ciao a tutti